Facciamo insieme questo viaggio che ci porta attraverso degli esperimenti abbastanza complessi a cercare di capire quello che è avvenuto nei primi istanti di vita del nostro universo. Come vedrete è veramente un viaggio nel tempo, un viaggio che cerca di scandagliare la materia per cercare veramente di capire e di osservare come si comportava la materia nei primi istanti, subito dopo il Big Bang. Per farvi capire il contorno, utilizzo questa trasparenza in cui parlo delle due strade della conoscenza, cioè in quali modi uno può capire l'origine dell'universo, cioè di tutto quello che ci circonda. C'è il modo tradizionale sulla destra che utilizza i telescopi, cioè uno osserva, osserva lo spazio celeste, osserva gli astri, le stelle, le galassie lontane. Oggi lo può fare con quelli che sono i super telescopi, sono telescopi a terra, basati sulla Terra, sono telescopi che sono in orbita nello spazio, dove è possibile avere una risoluzione molto migliore, sono satelliti che utilizzano non solo il visibile, cioè fotoni, ma utilizzano fotoni nel visibile, ma utilizzano tutte le altre sorgenti di energia, compresi fotoni e campi elettromagnetici, energie le più disparate, radio o energie gamma molto elevate. In questa maniera cercano di osservare oggetti molto distanti. Più distante vai nello spazio, siccome la velocità della luce è limitata, se tu osservi un oggetto molto distante, osservi quell'oggetto come era nel momento in cui hai messo quella luce o quella radiazione. Quindi hai la possibilità, guardando oggetti molto distanti, di osservare oggetti come erano molto tempo fa. In questa maniera è possibile attualmente osservare oggetti che sono distanti miliardi di anni luce, il che vuol dire li osserviamo come questi oggetti nello stato in cui erano, un miliardo di anni fa o più miliardi di anni fa. E in più si può osservare una specie di radiazione cosmica che riempie l'intero cosmo e che mantiene una specie di impronta originaria di quello che è avvenuto nei primi istanti di vita dell'universo. Questa è la radiazione cosmica di fondo, e lo studio di questa radiazione cosmica di fondo e di tutti i dettagli che essa contiene è come se fosse proprio lo studio di un fossile. Ci dice che è una registrazione dei primi vagiti dell'universo. E questo lavoro ci consente di capire dettagli incredibili di quello che è avvenuto nei primi istanti. Questa è la strada, diciamo, ordinaria. Osservazione, telescopi, super telescopi. Dopodiché c'è una strada, che è quella che pratichiamo noi fisici delle particelle, che è quella descritta a sinistra, quella basata sugli acceleratori, in cui si usa un approccio completamente diverso. È un approccio, se volete, più diretto. Cioè uno dice, io produco in laboratorio, attraverso collisioni tra particelle conosciute, particelle sconosciute, sconosciute nel senso che non sono più presenti attualmente nel mondo in cui lavoriamo, ma che erano presenti nei primi istanti di vita dell'universo. Quindi vedete, le due strade alla fine si incrociano. Osservi oggetti molto grandi e molto distanti, osservi oggetti molto piccoli, i più piccoli oggetti che riesci a produrre, attraverso questi che possono essere considerati a tutti gli effetti dei super microscopi, e quando cerchi di capire il comportamento della materia in oggetti enormi e molto distanti, il comportamento della materia in oggetti microscopici, ma che si comportano come si comportava la materia nei primi istanti di vita dell'universo, allora cerchi di costruire una visione coerente dell'universo primordiale. E questa è la visione che abbiamo messo insieme fino ad oggi. È una trasparenza in cui, vedete, sotto c'è l'asse dei tempi. Quindi alla fine di questo tubo ci siamo noi, oggi. E andate indietro nel tempo, dovete andare indietro 13,8 miliardi di anni per arrivare a un momento molto particolare, in cui è successo qualcosa che ancora, i cui contorni ancora non abbiamo capito esattamente. È successo, cioè, che una delle tante fluttuazioni del vuoto, la nostra visione attuale dell'origine dell'universo, si può descrivere con poche parole. All'inizio, anche se è difficile usare questo termine in senso proprio, c'è uno stato della materia che si chiama vuoto, ed è uno stato quantistico, come tutti gli stati della materia conosciuti. Cioè fluttua, oscilla. Attenzione, il vuoto non è il nulla. Questo forse è una cosa che cozza un po' col senso comune. Cioè il vuoto è come se fosse pieno di tutto. Prendete un'analogia aritmetica, prendete il numero zero. Il numero zero lo potete vedere come il non numero, ma lo potete vedere anche come un numero che contiene tutti i numeri. Contiene il più uno e il meno uno, fa zero. Più due meno due, fa zero. Quindi nello zero tu potresti vedere il non numero, quindi nel vuoto potresti vedere il nulla, è plausibile, ma potresti anche vederlo come l'insieme di tutte quelle possibilità compatibili con quello stato della materia. Lo zero, che contiene tutti i numeri positivi e negativi insieme. Quindi contiene un insieme infinito di potenzialità di numeri. Così è il vuoto quantistico. Questo vuoto quantistico oscilla, oscilla come tutti gli stati della materia. Ecco, quello che non capiamo è che c'è stata una particolare oscillazione, avvenuta 13,8 miliardi di anni fa, che ha fatto sì che questo vuoto quantistico si trasformasse in un universo materiale, che è quello che ci circonda, e che è durato 13,8 miliardi di anni. Cioè è un universo materiale che sta durando a lungo. In generale le fluttuazioni quantistiche sono fenomeni che si osservano in tanti stati della materia, per cui si aprono e si richiudono immediatamente. Quindi è normale che ci siano delle fluttuazioni che si aprono e che si richiudono. Qualunque stato della materia passa attraverso queste fluttuazioni. Non è normale che una fluttuazione duri così a lungo. È successo qualcosa in questa particolare fluttuazione che ha prodotto l'universo materiale, che si è sviluppato così a lungo, talmente a lungo da produrre galassie, sistemi solari, pianeti, vita su alcuni di questi pianeti, ed esseri intelligenti che si chiedono come mai è successo questo. E qui abbiamo capito molto di questo universo materiale. Abbiamo capito, vedete, c'è stato questo Big Bang, che è una parola suggestiva, che indica semplicemente questo fenomeno di una crescita esponenziale, la chiamiamo inflazione, è lo stesso termine che si usa per la crescita dei prezzi, quando i prezzi crescono all'infinito. In questo senso sta a indicare una crescita esponenziale, cioè un qualcosa di microscopico che in un tempo infinitesimo diventa enorme. L'universo primordiale, cioè dopo una frazione di secondo, era già mille volte più piccolo dell'universo di ora, ma già enorme. L'universo di ora è 10 alla 28 centimetri, gigantesco. L'universo primordiale era 10 alla 25 centimetri, cioè in una frazione di secondo, espandendosi a una velocità molto superiore alla velocità della luce, questo qualcosa ha spinto tutto a costruire una bolla di dimensioni immense. Cos'è questo qualcosa? Qual è il processo materiale che ha prodotto questo meccanismo? È completamente sconosciuto. Qual è l'origine dell'inflazione? È completamente sconosciuto. Da lì in poi ci sono voluti 300.000 anni perché la luce fosse. Vi ricordate il detto biblico? E' abbastanza corretto, solo che non è stato immediato. Ci è voluto circa 300.000 anni perché la luce si separasse dalla materia. Perché prima materia e luce erano un tutt'uno, essenzialmente. E ci sono voluti milioni di anni, miliardi di anni per produrre stelle, galassie e per produrre un universo che ha raggiunto una fisionomia simile a quella che attualmente conosciamo. Dopodiché abbiamo osservato in questo universo due fenomeni altrettanto enigmatici. Il primo è che le galassie e gli ammassi di galassie sono tenuti insieme da qualcosa. oltre alla materia conosciuta c'è un qualche cosa che tiene insieme la nostra galassia e la nostra galassia insieme alle altre galassie c'è qualcosa in questa stanza c'è qualcosa ovunque fondamentale nella costituzione dell'universo e questo qualcosa la chiamiamo materia oscura perché non emette luce, non si vede. Ma è qualcosa di presente e di importante, di decisivo nella formazione delle galassie. E un'altra cosa che ci ha stupito ancora di più vedete questo tubo che via via si espande lentamente alla fine aumenta le dimensioni di questo tubo aumentano. Questo sta a indicare che nel nostro universo è in corso un fenomeno assolutamente inaspettato e inspiegabile per cui uno si immaginava ok c'è il Big Bang tutto si allontana da tutto poi c'è la gravità noi sappiamo che c'è la gravità la gravità tende a diminuire questa velocità quindi o tutto si allontana da tutto con velocità che diminuisce oppure addirittura a un certo punto si ferma tutto e tutto ritorna indietro questa era un'idea diciamo una if che c'era fino a qualche decina di anni fa no oggi abbiamo scoperto non solo che tutto si allontana da tutto ma tutto si allontana da tutto a velocità crescente cioè tutto sta accelerando come se ci fosse una forma di antigravità come se ci fosse una forza ancora sconosciuta che spinge tutto lontano da tutto oppure come se la struttura dello spazio-tempo così come l'abbiamo concepita si deforma nel tempo non è stabile non sappiamo ancora quale delle due spiegazioni è corretta e tuttavia questa energia che spinge tutto lontano da tutto la chiamiamo energia oscura è uno dei grandi misteri che abbiamo che abbiamo di fronte e mi piace vedere nei vostri occhi lo sconcerto perché è lo stesso sconcerto che abbiamo noi cioè di fronte alle grandi questioni sulle quali ancora non sappiamo dar risposta per esempio questa è la nostra galassia la via Lattea come l'immaginavamo fino a pochi anni fa allora vedete non si vede qui è troppo piccolo ma il sole vedete quel braccio di Perseo è lì è una stellina che dista una quindicina quindicimila anni luce dal centro cioè siamo in periferia cioè è una stella buttata lì non siamo neanche particolarmente vicini al centro della galassia di un oggetto enorme un oggetto che ha dimensioni centomila anni luce e vi ricordo che un anno luce sono circa novemila cinquecento miliardi di chilometri quindi centomila volte novemila cinquecento miliardi di chilometri allora così immaginavamo la nostra galassia fino a pochi anni fa e così la vediamo ora vedete la nostra galassia visibile ora è quella cosa al centro la materia luminosa dappertutto c'è questa palla che è grande un milione di anni luce cioè dieci volte più grande della materia luminosa e quella è la materia oscura cioè le osservazioni che abbiamo fatto ci costringono a pensare che c'è questa materia che tiene una specie di sfera di particelle completamente sconosciute che tiene insieme la nostra galassia e addirittura va molto al di fuori della nostra galassia insomma concludendo questo primo pezzo del cammino stiamo veramente immersi in uno sceno di ignoranza questa è la la verità diciamo quella che nonostante tutti i progressi scientifici enormi degli ultimi cento anni diciamo le grandi questioni di cui di cui si parla sono ancora in larga misura da risolvere in particolare se uno considera l'universo questa torta la massa dell'universo è l'intera torta vedete la materia conosciuta tutto quello che conosciamo cioè noi il telefono gli animali il sole le galassie le stelle tutto è circa il 5% il 27% è materia oscura questa misteriosa forma di materia che tiene insieme gli ammassi di galassie il 68% è l'energia oscura quella forma di energia che allontana tutto da tutto quindi quando diciamo che ciò che conosciamo sono poche gocce come diceva Newton nel 600 cioè è ancora vero forse è vero ancora a maggior ragione nonostante tutti i grandi progressi scientifici e tecnici che abbiamo fatto e per cercare di capire è necessario fare questo viaggio molto speciale per certi versi è un viaggio nei non luoghi dello spazio e del tempo perché uno quando fa un viaggio viaggia da un particolare punto nello spazio a un altro particolare punto nello spazio e si muove lungo una traiettoria temporale noi non possiamo fare questo perché noi cerchiamo di andare all'origine dello spazio e del tempo quindi nel posto in cui che è un non luogo perché quando lo spazio non è nato non puoi definire un posto e che è un non tempo perché è il posto da cui è nato il tempo in qualche modo e l'unica maniera di farlo è di studiare la materia non come oggi cioè quell'universo bambino appena nato era molto diverso dall'universo attuale l'universo attuale è freddo la temperatura è media dell'universo è circa 3 gradi sopra lo zero assoluto terribile l'universo bambino sprizzava energia da tutti i pori la materia aveva energia da vendere quindi non puoi pensare di capire le condizioni della materia primordiale se non riportandola a quelle condizioni di energia e di temperatura che si avvicinano il più possibile alle condizioni dell'universo primordiale e questo è quello che facciamo cioè se vuoi esplorare questo non luogo del non tempo l'unica maniera di farlo in maniera scientifica corretta è quella di riprodurre certamente non un universo quello non potremmo farlo mai ma piccolissimi brandelli di materia in cui riproduci quelle condizioni iniziali le cui caratteristiche studi in grande dettaglio e allora forse capisci qual era il comportamento dell'universo primordiale ed è un viaggio che deve molto a un grande questo veramente un grande fisico italiano Enrico Fermi Enrico Fermi nel 1918 arriva a Pisa uno studente di 17 anni che fa questo test di ammissione scusate questa breve digressione storica ma poi capirete perché spendo così tanto tempo sui giovani sui giovani fisici fa questo test di ammissione questo test di ammissione io l'ho visto potrebbe essere ed era già allora giudicato una tesi dottorato cioè la test per essere ammesso all'università era già valido per essere pubblicato come una tesi diciamo il ragazzo è estremamente rapido tutti i docenti si accorgono immediatamente che è un fuoriclasse viene ammesso subito a fare esperimenti all'università pubblica i primi articoli di fisica mentre è ancora studente si laurea a 21 anni tanto per darvi un'idea e a 25 anni è professore a Roma questo è diciamo la velocità del genio diciamo ecco nel 33 a 32 anni lui esamina un fenomeno rarissimo a cui dedicavano solo gli ultraspecialisti il decadimento beta dei primi materiali radioattivi e lui sviluppa una teoria dice questo che vedo questi fenomeni che erano conosciuti nell'ambito specialistico è una nuova interazione una nuova forza ed è una teoria talmente rivoluzionaria e il ragazzo di 32 anni insomma è stimato ma non è conosciuto come i grandi fisici del tempo per cui praticamente l'articolo viene rifiutato viene rifiutato perché dice le speculazioni erano troppo distanti dalla realtà fisica per essere di un qualche interesse per i lettori questa è la motivazione del rifiuto dell'articolo è la teoria dell'interazione deboli infatti per lunghi anni sarà chiamata interazione di Fermi è la teoria che spiega il sole è la teoria che spiega il decadimento dei materiali radioattivi e lui non solo intuisce che dietro c'è una nuova forza ma intuisce e sviluppa le equazioni tant'è vero che ancora oggi si chiamano costanti di Fermi abbiamo l'intensità di questa interazione ha il nome di Fermi proprio perché lui per primo ne sviluppò la teoria ed è uno dei pilastri di quello che 30 anni dopo diventerà il modello standard delle particelle elementari cioè l'intuizione di Fermi fu un pochino l'asse portante che poi sviluppò questo tipo di teoria che è quella la nostra diciamo migliore comprensione della materia allo stato attuale il modello standard fu sviluppato negli anni 60-70 essenzialmente con un contributo di moltissimi bravi fisici hanno guadagnato una decina di loro premi Nobel diciamo da questo sviluppo da questo lavoro è la teoria che descrive la materia nella maniera più semplice la materia è fatta di 12 particelle leptoni e quark quelle sulla sinistra che interagiscono attraverso forze la forza forte la forza elettromagnetica la forza gravitazionale la forza debole due interazioni fondamentali l'elettromagnetica e la debole sono in realtà la stessa forza la forza elettrodebole che descrive le stesse equazioni quindi vedete si arriva teoria di Fermi quella interazione è una forza debole la forza debole e la forza elettromagnetica sono la stessa cosa come l'elettricità e il magnetismo sono la stessa cosa oggi tutti parlano di forza elettromagnetica nell'ottocento si pensava che fossero due forze diverse abbiamo scoperto che seguono le stesse leggi fenomeni elettrici e fenomeni magnetici c'è una perfetta simmetria e così si può dire per la forza debole abbiamo scoperto che la forza debole è una forma di forza elettromagnetica infatti i fisici la chiamano elettrodebole è un termine che ancora non è di uso comune lo diventerà magari fra qualche decennio per essere certi di questo c'è voluto un altro fisico italiano c'è voluto Carlo Rubbia anche lui lui è nato nel 34 guardate il caso un anno dopo la teoria di Fermi delle interazioni deboli anche lui studente brillantissimo qui vedete la foto da studente e fu lui che scoprì produsse la prova sperimentale che questa unificazione elettromagnetismo e forza debole è corretta le teorie possono essere eleganti congetture e per essere verificate sperimentalmente devono produrre risultati verificabili se la forza elettrodebole è un'unica forza come abbiamo trovato il fotone di massa nulla che è responsabile dell'interazione elettromagnetica dobbiamo trovare delle altre particelle questa volta molto pesanti che sono responsabili della forza debole e queste particelle sono le particelle W e Z che sono state trovate da Carlo Rubbia nell'83 scoperta che gli è valsi il premio Nobel del 94 in questo Rubbia un pochino chiuso il cerchio aperto da Enrico Fermi con la teoria dell'interazione debole però a questo punto c'è da risolvere un dettaglio vedete com'è la fisica risolvi un problema e ne nasce un altro e il dettaglio è come è possibile che W e Z portatori della forza debole siano così massicci vedete il lotatore di sumo che ho messo lì W e Z sono particelle pesantissime mentre il fotone che porta l'interazione elettromagnetica è così privo di massa praticamente così leggero e questo ha portato a ripensare un concetto che c'era sfuggito era sfuggito a tutti cioè cos'è esattamente la massa cioè se la stessa interazione è portata una volta da una particella leggerissima massa nulla e un'altra volta da particelle pesantissime ma allora questa massa che cos'è? perché queste particelle che in realtà portano la stessa interazione hanno masse così diverse fra loro chi gliel'ha data questa massa? si è dovuti affrontare e a rimettere in discussione un concetto che era vecchio di millenni e su cui anche i grandissimi fisici non avevano prestato adeguata attenzione cioè la massa è una cosa che misurate tutti voi quando vi mettete su una bilancia o quando andate a comprare un chilo di mele fate una misura di fisica si misura alla massa degli oggetti è stata usata come strumento di misura per lo scambio la civiltà è nata con lo scambio quindi io ti do un chilo di patate di grano e tu mi dai due conchiglie insomma questo era l'inizio del rapporto commerciale e tuttavia proprio perché come quelle cose che abbiamo sempre davanti agli occhi l'essenza di questa particolarità ti sfugge cioè ce l'hai davanti agli occhi e non ti chiedi realmente che cos'è questo è un pochino il senso della cosa e questo è avvenuto non solo alla gente comune ma anche ai grandi della fisica Galileo Galilei che pure capì che la massa e il peso sono collegati gli esperimenti il pendolo la caduta dei gravi il piano inclinato però la massa per Galileo rimane una proprietà cioè intrinseca della materia c'è la materia la materia a massa Newton capisce che la massa è la sorgente della forza gravitazionale cioè io metto una massa qui metto una massa lì si attirano la forza è debolissima devono essere molto grandi queste masse per produrre una forza significativa lo vediamo con i pianeti con le stelle con i satelliti ma tutte le masse attirano tutte le altre masse con una forza eppure anche per lui che pure produsse questa rivoluzione enorme anche per lui la massa rimase una proprietà intrinseca della materia addirittura Einstein Einstein fece per lo meno due rivoluzioni sul concetto di massa una è riassunta nella formula E uguale a mc4 cioè la massa è energia punto l'energia è massa oppure relatività generale la massa curva lo spazio-tempo se io metto una massa in un certo posto lo spazio vicino a questa massa non è più lo stesso il tempo vicino a questa massa non è più lo stesso il tempo il tempo vicino alla Terra corre a una velocità diversa del tempo su un satellite questo lo sappiamo lo misuriamo lo utilizziamo oggi noi sappiamo che il tempo un orologio l'orologio più preciso del mondo quando è vicino a un pianeta molto pesante corre a una certa velocità quando ti allontani da questo pianeta molto pesante corre a un'altra velocità quindi un'altra delle rivoluzioni che Einstein ha prodotto nel nostro campo eppure anche per lui la massa rimane una proprietà intrinseca della materia cioè non si è posto il problema fino a che sono arrivati degli altri giovanotti vedete quanti giovanotti si presentano in questa mia relazione una cinquantina di anni fa due gruppi di scienziati anche loro intorno ai 30 anni notate come si ripete no? fisici giovani brillanti intorno ai 30 anni di età sviluppano teorie che all'inizio nessuno prende sul serio tanto sono avanzate innovative e poi magari salvo ricredersi eccetera sono due gruppi di scienziati due belgi e uno scozzese qui fra l'altro vedete dalle fotografie vabbè a sinistra sono Braut e Dengler a destra è Peter Hicks quello che ha dato il nome alla particella vedete già dalle fotografie le diversità di carattere a destra Peter tra l'altro siamo anche amici una persona molto gentile educata per bene molto british molto formale molto diciamo per benino mentre invece Braut e Dengler sono due giocosi anche ora uno purtroppo è deceduto diciamo due anni fa tre anni fa Dengler è ancora scherzoso pieno di battute cioè si vede già a quelle talile caratteristiche anche del carattere e loro per spiegare la massa dicono una eresia dicono la massa se la volete capire se volete capire perché il fotone non ha massa e W e Z sono così massicci l'unica spiegazione è che il vuoto non è vuoto il vuoto è pieno di qualcosa il vuoto che fino allora uno considerava vuoto questo sì vuoto diventa pieno e pieno di che? pieno di un campo scalare un qualche cosa che riempie attenzione deve riempire l'universo intero non è che dici il vuoto nell'auditorio l'intero universo è pieno di questo qualcosa ovviamente per i primi anni nessuno li prese sul serio fino a che la loro teoria cominciò a essere a fittare bene diciamo i dati sperimentali e venne considerata una teoria plausibile e tuttavia non è che basta che una teoria sia plausibile sia elegante per essere vera al solito bisogna che ci sia la scoperta la verifica sperimentale quindi occorreva scoprire il bosone di Higgs e da allora è nata la caccia questa particella che ha occupato i fisici impegnati per quasi 50 anni e questo è il motivo per cui ha spinto me e come me molti altri a quel tempo parecchio più giovani di ora a lanciarci in questa avventura vi devo ora non ho tempo di raccontarvi qui ma per lo meno due generazioni di scienziati prima di me tentarono questa impresa senza riuscirci e quando uno si trova ad avere 35 anni e vuol fare qualche cosa di nuovo per il futuro considera questa sfida no? hai la la voglia di provare laddove gli altri non sono riusciti e questo è il meccanismo poi che spinge in avanti diciamo la conoscenza e questo ci ha spinto a lanciarci in questa avventura che è di costruire questa grande macchina e di costruire questi grandi rivelatori all'inizio ci prendevano tutti per matti questo ve lo devo dire perché diciamo qui c'è anche una persona che diciamo ha partecipato con me alle prime fasi e vi può raccontare ci riunivamo in scantinati in due o tre persone perché ci avrebbero massacrato se fossimo andati al giro a dire noi vogliamo fare questo era troppo ambiziosa la cosa troppo difficile quasi impossibile quindi diciamo l'establishment tende sempre a agire in maniera un po' conservativa ci sono avuti anni di battaglie anni e anni di battaglie di convinzione di discussione diciamo per convincere che si poteva fare e come ogni avventura ovviamente si richiede un'attrezzatura cioè non puoi questo è un signore che sta un bravissimo alpinista che è in una vetta dell'Himalaya non puoi pensare ad andare su a 7-8 mila metri senza allenamento senza attrezzatura con un fisico che non è adeguato a quel tipo di sfida insomma quindi non vi meraviglierò se non vi meraviglierete se vi dico che per realizzare questa attrezzatura che è il Large Hadron Collider cioè il grande anello di LHC questo anello di 27 km che si trova a Ginevra a 100 metri sottoterra equipaggiato con grandi apparati sperimentali ci sono voluti anni e anni di lavoro diciamo di sfide tecnologiche di sviluppo in tecnologia chi ci diceva voi siete matti aveva ragione aveva ragione perché le tecnologie per costruire questa non esistevano cioè noi non è che andavamo e chiedevamo fondi per andare a comprare qualcosa di sviluppato e di esistente perché le cose che volevamo fare non le sapeva fare nessuno neanche le ditte più avanzate erano in grado di farlo quindi da un certo punto di vista anche chi ci diceva voi siete pazzi aveva ragione perché se uno guardava quello che sapeva fare l'industria quello che sapevano fare i ricercatori a quel tempo questo oggetto non si poteva fare la sfida è stata di dire noi ci vogliamo provare lo stesso allora hai spinto la tecnologia all'innovazione allo sviluppo hai limiti e sei riuscito alla fine con anni e anni di fatica a costruire queste meraviglie della tecnologia prima di arrivare a quello perché urti fra particelle di altissime energie allora qui ci sono tre altri grandi della fisica De Broglie ti dice l'energia va come l'inverso di una dimensione cioè se tu vuoi vedere nel piccolo se vuoi costruire un microscopio molto piccolo che guarda dettagli molto piccoli devi avere un'energia molto elevata tant'è vero che col microscopio ottico si raggiunge una certa dimensione se vuoi vedere cose più piccole devi aumentare l'energia e devi usare gli elettroni il microscopio elettronico ti permette di vedere dettagli che col microscopio ottico non sono visibili più aumenta l'energia più piccoli sono i dettagli che vedi Einstein ti dice hai possibilità di trasformare l'energia in massa quindi alta energia vuol dire particelle massicce quelle particelle massicce prodotte nei primi istanti di vita dell'universo che ora sono sparite perché è troppo freddo per sopravvivere Boltzmann ti dice l'energia è temperatura alta energia vuol dire alta temperatura quindi stai andando a portare la materia nelle condizioni di altissima temperatura nei primi istanti di vita dell'universo quindi è veramente insieme un microscopio un telescopio è una macchina del tempo ha tutte queste caratteristiche gli ingredienti principali sono questi tre ti ci vuole anzitutto un acceleratore con l'acceleratore fai scontrare protoni attraverso lo scontro di protoni produci il più delle volte particelle conosciute raramente rarissimamente puoi pensare di produrre particelle mai viste fino ad ora più alta l'energia maggiore la probabilità di trovare qualcosa di nuovo di produrre e quindi di studiare qualcosa di nuovo hai bisogno di rivelatori cioè quando hai prodotto queste particelle per fotografarle hai bisogno di circondare la regione in cui avvengono queste collisioni con apparati che purtroppo data la complessità di queste collisioni diventano grandi come palazzi questo è un fotomontaggio in cui si vede il mio esperimento CMS l'esperimento Atlas messo a paragone con l'edificio in cui lavoriamo al CERN che è un edificio di cinque piani quindi un esperimento di fisica delle alte energie è un esperimento grande quanto questo auditorio non dovete immaginare un esperimento che sta su una scrivania diciamo è un palazzo un palazzo pieno di tecnologia pieno di sensori pieno di cavi pieno di fibre ottiche pieno di chip e di informatica pieno diciamo di tutte le cose più avanzate che uno possa immaginare e ovviamente queste cose non si fanno da sole hai bisogno di un'organizzazione adeguata che è il CERN nel CERN ci sono alcuni fra i migliori specialisti diciamo di tutte le tecnologie di cui hai bisogno bisogno non solo di fisici bisogno di ingegneri di tecnici ma la cosa che più sottolineo vedete qui ci sono circa dieci mila utilizzatori che provengono da 63 paesi diversi e la cosa più importante è che ci sono un sacco di giovani vedete qui sotto una fotografia della scuola estiva del CERN a cui partecipano circa 3-400 giovani di tutti i paesi ogni anno è come se raccogliessimo lì tutte le migliori menti del pianeta che hanno qualche interesse per la fisica fondamentale questa è una delle elementi decisivi per andare avanti per produrre risultati chiaramente mettere insieme questi esperimenti è stata un'impresa che è durata anni per me è stata un'avventura fantastica nel senso che la ricordo ora con piacere anche se ha attraversato sarebbe anche divertente andare attraverso momenti di crisi non dovete immaginarla come una sequela continua di successi al contrario la vita del fisico sperimentale è una vita in cui il rischio la paura le cose che non funzionano il budget che non è sufficiente gli imprevisti che ti costringono ad accelerare a correre quando il tempo non basta più diciamo è pane quotidiano e quindi diciamo questo di per sé avrebbe anche una valenza educativa diciamo se uno vuole intraprendere questo nostro lavoro è un lavoro affascinante e bellissimo ma è un lavoro in cui c'è il rischio cioè non è garantito il risultato e questo deve essere dato per scontato la ricerca scientifica è bella proprio perché esplori qualcosa di sconosciuto e puoi andare incontro a tutti i rischi possibili immaginabili rischi di avere sopravvalutato le tue capacità di avere sottovalutato le difficoltà rischi di avere sottovalutato i costi o di aver sottovalutato i tempi rischi che anche quando tutto funziona poi non riesci realmente ad avere a trovare nell'area giusta le cose che volevi diciamo questo è normale non si deve considerare di successo soltanto l'esperimento che fa la grande scoperta la nostra comunità funziona perché ci sono centinaia migliaia di esperimenti che producono risultati e ogni tanto qualcuno fortunatamente produce risultati eclatanti che diventano scoperte scientifiche maggiori ma non va dimenticato questo sforzo collettivo enorme qui vi faccio vedere molto rapidamente alcune fasi di questa impresa quando abbiamo scavato la caverna a 100 metri sotto terra vedete le dimensioni sono le dimensioni di una cattedrale di dentro nel 2003 2004 abbiamo cominciato a calare in caverna i primi componenti nel 2006 componenti equipaggiati 100 metri in superficie calati nella caverna sperimentale via via oggetti sempre più complessi quando abbiamo installato il cuore di CMS è stato uno dei momenti clou perché questo oggetto che pesava 2000 tonnellate che era appeso 100 metri sopra nessuno sapeva realmente se saremmo riusciti a portarlo giù in sicurezza questo oggetto oltre a essere pesante è un oggetto delicatissimo una qualunque vibrazione fuori controllo un urto o un inconveniente avrebbe potuto determinare il fallimento globale di tutti questi anni di lavoro questo vi dà un'idea dei rischi che si corrono in questo tipo di imprese ed è un concentrato delle più moderne tecnologie qui vedete un'immagine presa durante una fase dell'installazione del rivelatore e credo che non vi meraviglierete se vi dico che abbiamo bisogno veramente di migliaia e migliaia di scienziati cioè non è un lavoro che possono fare 100 persone è un lavoro in cui è richiesto lo sforzo collettivo di migliaia di persone per avere un'idea altra su CMS hanno circa 3.000-3.300 fisici studenti ingegneri postdoc che provengono da tutto il mondo e qui è una cosa estremamente positiva cioè si mette insieme l'intero mondo che vuole partecipare a queste imprese questo è il gigante di LHC CMS l'avete visto prima è il più piccolino del nostro fratello Atlas che è veramente enorme qui vedete le dimensioni quelle due figurine cerchiate in rosso che è stato diretto per molti anni da Fabiola Gianotti un'altra scienziata italiana che ha guidato per molti anni l'esperimento gemello è la storia di molte sfide tecnologiche ma è la storia anche di profonde emozioni mi piace farvi vedere questa fotografia perché qui vedete un'immagine presa dopo due o tre giorni che stavamo combattendo è il momento in cui per la prima volta hanno circolato fasci di alta energia in LHC abbiamo capito che si poteva fare ci si poteva provare e qui vedete intanto notate me al centro con la gravata sono il più vecchio di tutti che fa parte di quella cosa che vi dicevo prima poi guardate gli occhi di questi ragazzi e di queste ragazze di tutti i paesi del mondo cioè in quegli occhi si capisce la bellezza della fisica cioè dello sforzo collettivo dell'impresa in cui ognuno fa la sua parte e quando avviva il risultato diciamo si è partecipi del risultato nel suo complesso e quando tutti come anche qui questa volta adesso non è tempo di andare attraverso la storia della scoperta di questa particella così importante vi dico soltanto che c'è stato un momento in cui sembrava quasi che anche il nostro sarebbe stato l'ennesimo tentativo infruttuoso e come se fosse una beffa del destino proprio in quel momento quando questo sembrava l'ennesimo tentativo infruttuoso abbiamo cominciato a vedere eventi di questo tipo molto particolari queste sono le fotografie di cui vi parlavo prima noi confrontiamo le fotografie che ci aspettiamo di vedere il bosone di X con fotografie diciamo di eventi considerati normali di fondo o di processi conosciuti e quando cominci ad accumulare eventi chiamiamoli anomali al di sopra di una certa frequenza che ti aspetti lì cominci a pensare che o è sbagliato o c'è qualcosa che ti è sfuggito oppure effettivamente questo è il segno che è un nuovo stato della materia sta emergendo dai tuoi dati quando abbiamo cominciato a vedere eventi di questo tipo che sono spettacolari sono segnature molto specifiche molto precise sono quelle che ci aspettavamo quelle che sognavamo di vedere che per anni e anni abbiamo sognato di vedere arrivi a un punto dopo mesi e mesi di lavoro che ora qui non vi descriverò di controlli di paranoica controllo ricerca dell'errore ricerca della cosa che ti è sfuggita perché non sei mai sicuro fino in fondo che tutto quello che vedi sia corretto arrivi a una scoperta che resta nella storia e di colpo poi cambia tutto scopri che improvvisamente quello che a te sembrava un'attività normale il tuo lavoro di ricercatore cade sotto i riflettori di tutto il mondo viene assegnato il premio Nobel della fisica a quei due ragazzi ora vedete sono diventati due anziani signori ancora vedete lo sguardo un po' mefistofelico di François Englert che ricorda quei suoi occhi diciamo giocosi di quando era ragazzo mentre Peter Hicks è sempre compassato è un signore diciamo un pacato signore di una certa età e con tutta onestà dopo la scoperta del bosone di Hicks ci aspettavamo questo risultato ma quando quindi eravamo lì ad aspettare la notizia non siamo stati colti di sorpresa francamente ma quando hanno letto nella motivazione scoperta da parte degli esperimenti ATGMS io ho avuto un brivido di emozione perché aver sentito i nomi dei nostri esperimenti dopo quella fatica immane di decenni di rischi citati nella motivazione del Nobel lì abbiamo capito che quello che abbiamo fatto in qualche maniera resterà ecco questa è una cosa che per un fisico sperimentale è un'enorme soddisfazione ora arriviamo al punto di partenza cosa abbiamo imparato abbiamo imparato una cosa fondamentale cioè intanto siamo arrivati a capire la nascita dell'universo fino a un 10 alla meno 11 cioè un centesimo di miliardesimo di secondo subito dopo il Big Bang è un istante che è già molto distante dal periodo iniziale il periodo dell'inflazione il periodo di quella crescita esponenziale di cui si parlava all'inizio ma è un istante estremamente importante perché sappiamo che in quel momento è successo qualcosa di irreparabile è successo che instaurandosi diciamo congelando il campo di X instaurandosi questo campo scalare dappertutto da quel momento in poi nulla è stato più come prima e in particolare quella interazione debole si è differenziata definitivamente dall'interazione elettromagnetica dando massa al W e allo Z l'interazione debole è rimasta confinata sulle distanze subnucleari l'interazione elettromagnetica rimanendo il fotone privo di massa è rimasta un'interazione che ha continuato ad avere raggio d'azione infinita se uno modificasse questi parametri il mondo non avrebbe la consistenza che ha se uno modificasse la massa dell'elettrone quindi la massa che le particelle acquisiscono per interazione con questo campo scalare non avremmo più possibilità di avere gli atomi le molecole la biologia non saremo qui a discutere quindi questa scoperta in qualche misura ci costringe a riscrivere i libri di fisica cioè a dare alla massa quel ruolo ora specifico che abbiamo capito e a descrivere questo meccanismo come un meccanismo assodato che ora possiamo archiviare per certi versi c'è una cosa intrigante e qui si entra nel campo delle domande delle grandi questioni a cui si accennava all'inizio perché per sviluppare quel meccanismo di crescita esponenziale alcune teorie prevedono la necessità di una particella scalare ora non sto qui a descrivere esattamente cosa vuol dire particella scalare però vi dico che il bosone di X è la prima particella scalare fondamentale che viene scoperta e quindi c'è una tentazione di pensare che questo bosone di X abbia avuto un ruolo non solo nel dare massa alle particelle elementari ma anche in questa fase iniziale c'è una parte della comunità scientifica che discute se non è il caso forse che anche il meccanismo di inflazione cioè di questa crescita esponenziale che poi è all'origine del Big Bang se volete sia in qualche modo correlato a questa nuova particella che pure gioca un ruolo così fondamentale nella separazione dell'interazione non è debole da quell'elettromagnetica devo dire c'è un'altra parte della comunità scientifica che pensa esattamente l'opposto anzi sono dati recenti recentissimi di qualche settimana fa che dicono che è molto improbabile che questo sia vero e che se c'è una particella scalare dovremmo cercare un'altra particella ma questo per dire che da una scoperta come spesso succede nascono nuove domande e nuovi interrogativi un'altra di queste domande è non solo uno sguardo al passato ma uno sguardo al futuro cioè uno ha scoperto questa ragnatela questa impalcatura questa struttura dell'universo che gioca un ruolo così fondamentale in un universo così come lo conosciamo e si pone immediatamente la domanda perché questa impalcatura ha durato fino ad ora come ha fatto a durare fino ad ora e subito dopo e chi ci dice che durerà ancora all'infinito o per un mese o per un miliardo di anni cioè ci si pone il problema della stabilità di quello che chiamiamo il vuoto elettrodebole ora è difficile spiegare in dettaglio come si affronta questo problema ma grosso modo uno immagina questa struttura come uno stato che può essere descritto immaginate l'acqua l'acqua può variare il proprio stato sulla base della pressione e della temperatura dallo stato gassoso allo stato solido allo stato liquido a seconda di due variabili la pressione e la temperatura se io fisso la pressione cambio la temperatura posso far bollire l'acqua posso farla congelare o posso averla allo stato liquido immaginate che queste due variabili per il vuoto elettrodebole non siano pressione e temperatura ma siano la massa dell'X e la massa del quark top un altro quark il più pesante dei quark che sembrano giocare un ruolo fondamentale diciamo nello stato di salute di questo vuoto elettrodebole allora quello che si vede è che se uno mette vedete in quel plot di sinistra si chiede in quali condizioni questo vuoto elettrodebole è stabile la zona verde in quali condizioni è instabile zone rosse e va a mettere dove abbiamo scoperto il bosone di X è capitato che va a finire proprio in quel becco d'anatra fra l'instabilità e la stabilità in quella condizione di metastabilità e questo è uno zoom sulla destra dello stesso grafico ed è suggestivo anche qui non sappiamo cosa vuol dire esattamente questo grafico ci sono delle ipotesi dietro questo grafico molto importanti però potrebbe voler dire qualcosa potrebbe indicarci qualcosa abbiamo bisogno forse di ulteriori studi per capire esattamente se c'è qualche cosa di specifico nel fatto che il quark top sia così pesante e il bosone di X abbia specificatamente quella massa perché vedete bastava spostare di poche gev di poche quantità la massa del bosone di X e non saremmo stati qui a discutere allora questo di per sé è un'indicazione di ulteriori studi che dovremmo fare di ulteriori analisi che dovremmo fare per capire meglio non solo cosa è successo diciamo nei primi istanti dell'universo ma anche qual è l'evoluzione di questo universo per il momento sembra che non ci siano rischi imminenti cioè che la stabilità sia garantita per un periodo abbastanza lungo però questa è un'altra delle aree su cui bisognerà investigare infine la cosa che voglio citare è che ora avendo scoperto il bosone di X è un pochino completato quel quadro di cui si parlava all'inizio del modello standard ora abbiamo piazzato al centro di quark di leptoni e delle forze questa particella molto particolare che ha questo ruolo di assegnare le masse e tuttavia per un certo verso siamo contenti siamo estremamente soddisfatti cioè abbiamo la possibilità di dire il quadro è completo ma per un altro verso ci poniamo domande se volete altrettanto interessanti altrettanto importanti perché se questo è il modello standard il modello standard ci spiega tutto quello che vediamo perché non riusciamo a spiegare la materia oscura e che cos'è l'energia oscura e che cos'è che ha prodotto questa asimmetria fra materia e antimateria e che cos'è che unificano le interazioni fondamentali e che ruolo gioca la gravità cioè il modello standard per quanto teoria di successo non spiega alcune delle questioni fondamentali della fisica moderna che rimangono al di fuori quindi per certi versi avendo scoperto il bosone di X e avendo scoperto con le caratteristiche previste dal modello standard questo ci costringe ad affrontare in maniera nuova questa serie di questioni che rimangono aperte e questo è il motivo per cui la comunità scientifica si interroga su altri sviluppi futuri su altre macchine su un altro ciclo di ricerche che dovranno portare a fare passi avanti in questa direzione e ovviamente si parla di acceleratori di grandi dimensioni qui vedete uno schizzo di una proposta discussa in Giappone l'International Linear Collider tutt'ora in discussione nulla di deciso ma tanto per darvi un'idea una specie di fabbrica di X un acceleratore lineare non più circolare 30 km di lunghezza quindi anche qui un'enorme infrastruttura che richiederebbe diciamo 15-20 anni di tempo per la costruzione cioè nel momento in cui abbiamo raggiunto un risultato si discute del passaggio successivo e questa è una discussione in corso anche al CERN qui vedete un fotomontaggio visto dall'alto si vede l'HC che ora è diventato quel cerchietto bianco e si vede quel cerchio giallo che sarebbe un acceleratore di 80-100 km cui LHC servirebbe come iniettore con un'energia 7 volte maggiore di LHC che richiederebbe però 20-30 anni di tempo per la sua costruzione e concludo dicendo che abbiamo bisogno con tutta probabilità per affrontare e risolvere alcune delle questioni aperte che sono enormi di cui parlavo prima di una nuova generazione di scienziati che portano avanti nuove idee come avete visto nel corso della presentazione è avvenuto più volte e continuano il lavoro iniziato poco più di 400 anni fa da questo signore che osservando una nuova stella nel cielo cambiò tutto da quella osservazione è cambiato il mondo intero è nata la modernità nulla è più stato come prima quindi concludo dicendo che siamo solo all'inizio di questa esplorazione che i dubbi le domande sono ancora enormi vi chiedo di rimanere in ascolto perché le sorprese potrebbero non essere finite ci sono però giovani interessati curiosi e appassionati per la fisica le occasioni di sviluppare il loro talento e magari produrre anche idee innovative nel prossimo futuro sono sicuro che non mancheranno grazie 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 professore non abbiamo molto tempo ma a proposito di giovani appassionati di fisica ci sono alcuni ragazzi del liceo scientifico di Foligno che vi propongono l'esperienza avuta al CERN a ottobre poi ci sarà tempo per qualche domanda poche ma qualcuna sì salve a tutti sono un'alunna del liceo scientifico di Foligno Elisa Vistoria Lunni e frequento il quarto anno io insieme ad alcuni dei miei amici ho partecipato alla grande esperienza per la visita del CERN innanzitutto noi avevamo molte aspettative e appena arrivati di fronte a quell'esperimento ci siamo resi conto che non erano niente grati in confronto all'enormità di quell'immensa macchina prima di tutto abbiamo visto l'expo in superficie dove abbiamo notato la stretta e lo stretto collegamento tra l'universo e quindi l'infinitamente grande e le particelle cioè l'infinitamente piccolo e in seguito siamo scesi ad una profondità di 100 metri di altezza sotto terra e siamo andati a visitare il CMS dal vivo e questo esperimento ci ha fatto provare grandi emozioni e anche grazie alle attrezzature e alla sicurezza e ai modi in cui si trovavano lì le persone che erano molto attrezzate e amavano molto il loro lavoro abbiamo notato come l'ostretto rapporto tra le persone anche di nazionalità diverse forse molto importante tanto che questi sono riusciti a realizzare anche qualcosa che sembrava davvero impossibile infatti la parola impossibile è il tema principale del CERN e di questo importante esperimento tanto che lo stesso Carlo Rubbia come ci hanno illustrato nell'introduzione al CERN credeva appunto che questo esperimento fosse davvero impossibile perché una macchina così complessa non poteva essere realizzata per la sua struttura e questo invece è stato rivoluzionato tanto che adesso abbiamo questo grande esperimento delle LHC appunto con dei grandi fisici e questo esperimento è una grande soddisfazione e fa credere anche a noi giovani che possiamo essere comunque il futuro della nazione che anche sogni che sembrano impossibili possono realizzarsi con il corso del tempo buona buonasera a tutti io sono Davide Tesauri e faccio il quarto scientifico volevo aggiungere solo qualcosa per quanto riguarda diciamo la sfera delle amicizie in questo viaggio infatti è nata un intenso rapporto fra me e i miei compagni che tuttora persiste e ci porta spesso a incontrarci anche nei pomeriggi e stare insieme vivere delle esperienze insieme guardare al futuro anche con occhi diversi rispetto a prima perché abbiamo siamo testimoni di un'esperienza che comunque ci ha colpito nel profondo in questa esperienza con questo viaggio abbiamo potuto mettere diciamo in pratica e vivere appieno le nostre passioni per la fisica ma non solo e per fare questo volevo anche ringraziare Metellica Alcestruzzo e Omadonti che hanno creduto in noi e ci hanno sponsorizzati in questa iniziativa il sogno che abbiamo ora è quello di vivere ancora una volta questa esperienza al CERN però questa volta avere un'esperienza non solo diciamo guardando le varie strutture e anche i vari macchinari che ci sono ma vivere proprio in prima persona l'esperienza quindi avere un'esperienza di studio lavoro di almeno un mese se è possibile al CERN per portare per vivere al pieno le nostre passioni per la fisica e per il mondo delle particelle grazie 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 a tutti.